Inaugurata a Manduria la terza edizione di Destinazione Primitivo, l'evento che unisce il fascino dei motori al gusto unico di un vino, che ha reso celebre la Puglia in tutto il mondo. Un raduno Porsche d'epoca raffreddate ad aria ed in voga tra il 1950 e il 1998. Oltre 40 anni di storia Porsche in esposizione presso la cantina produttori vini di Manduria e pronte per un viaggio che ha una sola mission, la promozione del territorio e delle sue risorse. La terza edizione ha un taglio molto ambientale per sensibilizzare alle problematiche ambientali, considerando che Porsche è stata la prima azienda di un certo livello, di una certa caratura, che hanno sostanzialmente optato per l'elettrico. Si parte dalla città di Manduria, questo è il percorso. Anziché fare la classica superstrada, la Sinnica, si procede attraverso il Pollino, seguendo la vecchia strada che va a scavallare il Pollino al rifugio dei Gasperi, per arrivare poi a Maratea nel primo pomeriggio. Poi di lì il gruppo domenica mattina raggiungerà la sommità del Monte San Biagio, dove c'è il Cristo Redentore. Equipaggi provvisti di Green Pass, evento organizzato nel rispetto delle normative vigenti, ma soprattutto un partner d'eccezione che ha creduto da subito nel successo del progetto, la cantina produttori vini di Manduria. Da subito abbiamo accettato di diventare main sponsor di una manifestazione che ritenevamo già agli albori importante. E' quello che è diventato poi nel tempo. Speriamo diventi ancora più importante perché da manifestazione regionale possa diventare interregionale, perché no anche nazionale. Sicuramente il binomio vino-motori è ormai stato consolidato, ma il vino va bene con tutto, va bene con il cibo, va bene con la compagnia, va bene anche con le auto.